Eccoci e bentornati sul mio canale. Ragazzi, video veramente incredibile degli ultimi minuti perché me l'avete segnalato questa mattina. Sembrerebbe che a diversi utenti, a diversi giocatori che stanno giocando proprio a Black Ops 4 in questi minuti, in queste ore, dopo l'evento e l'attivazione di Day of Summer, abbiano ricevuto 1100 Call of Duty Points. Vi faccio vedere praticamente il post che sta facendo il giro della rete e volevo sapere anche qui in Italia se stava accadendo. Praticamente PlayStation, in maniera completamente random, sta inviando a diversi utenti che stanno giocando a Black Ops 4, dopo l'attivazione di Day of Summer, 1100 Call of Duty Points su PS4 da poter utilizzare all'interno di Call of Duty. Cosa veramente molto interessante. Come vedete vi abbiamo regalato 1100 Call of Duty, 1100 Call of Duty Points perché è praticamente per l'evento Day of Summer di Call of Duty. Quindi cosa veramente molto interessante. Utilizzala ad esempio per ottenere Menendez all'interno praticamente di Blackout, per avere nuove armi, per aprire casse di riserva. Quindi 1100 Call of Duty Points è sempre meglio di niente. Quindi io praticamente prima di fare il video mi sono collegato con il mio account e non mi è arrivato nessun avviso da parte di PlayStation. Volevo sapere, dato che questo post sta facendo il giro della rete soprattutto in rete nella parte internazionale di Call of Duty, volevo sapere se anche PlayStation Italia praticamente sta regalando questi Code Points per noi che stiamo giocando a Black Ops 4. Qui sotto nei commenti fatemi sapere, fatemi sapere quindi se sì o no se avete ricevuto o meno questi Code Points e ovviamente rimanete sintonizzati perché potrebbero arrivare proprio in queste ore. E noi ci vediamo ad un prossimo video.